Sono Luca Battistelli di Brasi Media Technologies, siamo qui oggi all'Impact Hub di Bari per la tournée sull'educational organizzata da connessioni. Il mio intervento è stato sulla formazione 4.0, che ho coniato io così anche con un po' di ironia per parlare di quanto è stato possibile fare per il mondo dell'educationale in termini di tecnologie applicabili alle aule universitarie o all'ambiente scolastico in generale. In particolare ho presentato la tecnologia Mersiv di sharing contenuti in modalità wireless che permette di condividere a molti utenti contemporaneamente un numero illimitato di contenuti ciascuno. Una seconda argomentazione è stata quella del recording e lo streaming con la tecnologia AREC che è composta da delle media station che permettono appunto la registrazione in tempo reale delle conferenze o comunque delle lezioni per fare poi uno streaming eventualmente su canali come YouTube o altri servizi web similiari. Nel sistema AREC tra l'altro sono anche possibili delle implementazioni con telecamere autobrandeggianti che fanno il tracking del professore durante la lezione e quindi permettono una registrazione senza la necessità di una vera e propria registrazione. Ho ricevuto a fine dell'intervento ho notato che c'è molto interesse in particolare per la parte di sharing contenuti in modalità wireless soprattutto perché poi nella parte dimostrativa a valere l'intervento si nota quanto sia flessibile questa soluzione e quanto sia fruibile facilmente da parte di un utente anche non ha detto io.